Il 13 settembre apre a Siena Simpli Ecoattento, il supermercato dall'anima più verde che c'è. Simpli Ecoattento protegge l'ambiente grazie all'utilizzo di materiali riciclati ed impianti a risparmio energetico. Qui la tua spesa ecoattenta è anche economica, con i distributori self-service di cereali, legumi, pet food, detersivi e acqua microfiltrata gratuita. Simpli Ecoattento seleziona per te i migliori prodotti del territorio e tanti prodotti biologici. Da Simpli, risparmi aiutando l'ambiente. Dal 13 settembre a Siena, nella zona artigianale di Viale Toselli. Simpli, semplice la spesa, semplice la vita.